Ciao ciao, benvenuto alla mia cartoleria Cosa ti serve? Ah, puoi pianificare tutta la settimana? Va bene, vedo che ti piace Harry Potter per la maglietta che hai addosso Allora una cosa speciale per te Guarda, qua puoi pianificare tutta la settimana Venerdì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica Ecco ma vedi, ci sono delle note di Harry Potter molto molto carine Ti piace? Lo porti con te? Ho anche delle penne a te, ma qual ti piace di più? Quella del buono o quella del cattivo? Preferisci quella del buono, Grifondoro? L'ho immaginato Guarda quanto è carina, bellissima, giusto? Ti serve qualcosa anche per dipingere, ci penso Nella cuorella, tutti i colori per te E anche in offerta, c'è anche il pennello Perfetto Per finire immagino ti serve un blu Certo Eccolo qua Ti piace? Perfetto Allora, porti tutto Buona scelta Ciao, benvenuto all'oculista Cosa posso fare per te? Ah, perfetto Allora cominciamo questo esame della vista Vai Devi seguire questa lucetta Hai capito? Perfetto Iniziamo Perfetto Adesso controlliamo le pupille Va bene Iniziamo Una C'è la luce Non c'è C'è la luce Non c'è C'è la luce Non c'è Molto bene Andiamo con l'altra C'è la luce Non c'è C'è la luce Non c'è C'è la luce Non c'è Molto bene Vediamo come sta la tua vista Allora devi dirmi le lettere che ci sono Perfetto Ok Iniziamo qua Sodo Tipi 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 Molto bene Allora qua Tipi 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 Molto bene Allora andiamo con queste più piccoline di qua Tipi 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 Vieni Fattenissimo Allora qua Tipi 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 Perfetto Abbiamo concluso il tuo esame della vista Quindi alla prossima Ciao ciao Come stai? Benvenuto alla mia clinica nervi craniali Cosa posso fare per te? hai bisogno di fare un'analisi nel tuo naso perché lo sfatto non va affatto bene perfetto qua c'ho dei cartoncini dove ti farò dei test per vedere se riesci a odorare quello che farò perfetto ben, iniziamo numero uno banniglia quasi quasi numero due caffè molto lontano andiamo con l'ultima qua cioccolato ma che stai a dire? mi sa che non respiri affatto bene facciamo una cosa ti darò un spray così puoi respirare meglio va bene ok, aspetta un attimo allora due spruzzi e in ogni fossa nasale va uno due perfetto ok, ci vediamo alla prossima ciao ciao come stai? ah ok vuoi fare delle puntere nel labbro capisco le vuoi fare più grosse più spese ok allora vediamo che tipo di labbro ci sono come ce l'hai te e come voi che diventano ok qua abbiamo tutti i tipi di labbro i tuoi sono i fini come vuoi farle? è sicuro? così spese? ma poi non è troppo per il tuo viso facciamo una cosa a metà va bene perfetto allora iniziamo con le punture e un gogno labbro molto bene sentirei dei picchi 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 prova a stare molto tranquilla va bene so fare molto bene il mio lavoro iniziamo picchi 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 andiamo con quello di sotto picchi 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 molto bene ti senti bruciare? è normalissimo fra 2-3 giorni passa tutto si sgonfia e potrei vedere il risultato va bene mi raccomando un po' di ghiaccio ciao 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 coricino mio come stai? benvenuto alla mia estetica cosa posso fare per te? ah vuoi farti le onglie un bel manicure perfetto allora iniziamo tagliamo un po' le onglie va bene bene ok adesso limiamo un po' perfetto molto bene adesso andiamo a scegliere un colore questo ti va bene? sì è bellissimo ottima scelta lasciamo vedere con le mani bellissime ci vediamo uno al prossimo manichio ciao ciao coricino mia come stai? hai bisogno di fare un trucco semplice ma carino perfetto allora iniziamo perfetto un pochino di spray ok molto molto bene benissimo adesso andiamo con un po' di cipria questo è proprio il tuo colore si sta finendo hai visto? molto molto bene adesso facciamo queste sopracciglie lunghe 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 ok lunghe lunghe è per finire un bel rosetto cip 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 fammi vedere wow fammi un bacio perfetta ciao ciao coricino mia come stai? cosa posso esserti utile oggi qua nel mio studio? poi ho rientrato nel tuo biso perfetto quindi mettiti in posa e sta fermo fermo capito? ok ciao inizio sonrii sonridi perché è così serio molto meglio molto bene adesso vado a prendere i miei colori ok wow è stupendo questo ritratto ci vediamo al prossimo ciao ciao coricino mio come stai? benvenuto al mio studio dentistico e cosa posso fare per te? ah hai le gengibie che sanguinano oh dios oh my god come è possibile questa cosa? ok andiamo a controllare questi denti perfetto apri la bocca devi dire ah devi dire ah 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 ok ok no 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 niente 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 è tutto bene bene entrare arriva arriva su su un po' non c'è niente 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 ok molto bene diciamo gli denti stanno molto 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 bene ma le gengibie sono gonfie da quando non ti fai una bella pulizia profonda l'abbiamo fatto quando? la settimana scorsa allora vuol dire che probabilmente non ti stai lappando i denti bene 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 come si deve fare ti spiego io in questo momento immagina che questi sono i denti tuoi va bene? ok quei denti di sotto si lavano in su quei denti di su si lavano in sotto ok? come questa canzone per i bimbi e qua dietro come si lava? con i movimenti circolari capito bene? ok ci facciamo e qua perfetto hai capito? non dimenticare mai lo spazzolino migliore è l'orealbe hai capito? perfetto ci vediamo alla prossima consulta ciao 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 coricina mia come posso aggiudarti oggi con un taglio di capelli perfetto quanto sono le punte poco poco ok? una franzetta magari secondo me ti sta benissimo per il tuo visino ok allora ci penso io perfetto anzitutto pettiniamoci molto bene adesso andiamo a tagliare a prima bagniamo un po' il capelli va bene? ok molto bene adesso la franzetta va molto 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 bene adesso diamo un po' di volume ci penso io benissimo fammi vedere wow stupenda ci vediamo prossima sessione di peruglia ciao ciao coricina mia come stai? ok benissimo ti serve un vestito qual è l'occasione? ah ti sposi wow tanti tanti auguri allora iniziamo a prenderti le misure perfetto molto 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 ben allora che colore è il tuo vestito fuzio oh wow che colore così particolare per un matrimonio ma va bene lo stesso sicuramente sarei fantastica adesso devi stare ferma 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 altrimenti posso poggirti va bene ok perfetto ok allora mettiamo il filo qualche colore davinare rosso verde wow questi oh ben diventiamo veramente particolari evidentemente hai un stilo un po' strano benissimo ho le tue misure ho la tante ho i colori puoi passare la prossima settimana per il tuo vestito tipo va benissimo ciao 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 grigino mia come stai io sono vanna scarlin buigio sì non ti dico il mio cognome perché manco io so pronunciare il mio cognome comunque io sto qua perché io amo l'asmr fast immagino che anche te perché te sei visto tutti 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 il roleplay prima di arrivare qua comunque volevo dirti che anch'io volevo fare un roleplay quindi magari ti faccio la perrucchiera no meglio no perché ti lascio calva allora quindi magari posso fare un roleplay di cuoca no a me se mi bruciano puri tosto e quindi beh la verità è che io non so fare nulla altro che usare il mio potere quindi posso insegnarti a usare il mio potere ma no ma poi ti strucco a casa quindi la cosa migliore che posso fare è niente solo farmi vedere da te ciao grazie a tutti Grazie.